Affittavano ai turisti i propri immobili, occultando poi al fisco oltre 50.000 euro. Nel merino della Guardia di Finanza di Taranto e delle compagnie di Manduria e Martina Franca, alcuni tra alberghi e biembi degli stessi territori. E quanto emerge dopo il controllo delle fiamme gialle, della documentazione necessaria e dalle indagini bancarie. I finanzieri hanno individuato i titolari da attenzionare dopo alcune informazioni raccolte. L'analisi approfondita anche attraverso il controllo delle banche dati avrebbe confermato quanto ipotizzato. I controlli anti-evasione proseguiranno anche nelle prossime settimane. Si ricorda che l'evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l'equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.